cari amici la buona serata sarà capitato più di uno di noi no insomma di dover fare una conversione diciamo da documento word a pdf e retromarcia allora adesso qui io per esempio li ho tutti e due apriamo il word per farvi capire ecco in questo caso qui è un documento word perché vedete si può cancellare no supponiamo che noi vogliamo trasformarlo in documento documento pdf c'è intanto lo trasformiamo in pdf facciamo così condividi posta elettronica lui si apre mancata non è che questo è un documento pdf d'accordo come vedete un po non si può modificare e qui ci siamo è qui non lo sappiamo era per far vedere come si fa a modificare ma supponiamo e su chi diamo tutto non sa che ne abbiamo modificato supponiamo che noi abbiamo lo stesso documento in pdf ok questo pdf vedete che questo ve lo ingrandisco vedete che no non si può cancellare d'accordo allora cosa facciamo 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 così intanto diminuiamo per prendere tutta un pochettino la pagina facciamo una copiatura copia apriamo un uomo e facciamo incolla ok vedete vogliamo cancellare questo ecco semplice cancelliamo quello che ci pare possiamo salvarlo in documento word oppure lo condividiamo come abbiamo fatto prima in pdf eccolo qua eccolo qui e non è modificabile semplice no adesso non sappiamo niente perché non vogliamo modificare il documento non salvare era per farvi vedere insomma vedere come si fa perché ho detto madonna porto miseria delle volte ci sono delle cose da fare anche degli inserimenti questa è un po la divorzazione ok uscirata stanca bene vi saluto la buona notata ciao a tutti